Ci hanno creduto tutti, regione, provincia, comune, comunità montane, BIM, consorzio formaggi, distretto agroalimentare. Solo dalla coesione unanime poteva nascere la volontà di proporre anche in un anno così delicato la mostra del Bitto. 1.300 gli ingressi su prenotazione che saranno consentiti. Un dato che stimola per quest'anno e anche per il futuro un impegno crescente nel segno della qualità. Tutti gli enti si sono uniti, hanno fatto sinergia, hanno individuato il progettista giusto affinché desse le idee e gli stimoli giusti. E arriviamo oggi a poter dire che la 113esima edizione della Fiera del Bitto, nonostante il problema legato all'emergenza Covid, si terrà. Come già era stato voluto a febbraio, quando ci siamo incontrati per la prima volta a parlarne, abbiamo detto che la Fiera del Bitto avrà un'accezione di qualità. Beh, oggi con il Covid in mezzo questo valore è ancora più importante. Il territorio ha bisogno di promuovere e di valorizzare il lavoro e la fatica che sta dietro questo prodotto. Oltretutto in questo periodo con tutte le difficoltà che hanno avuto anche gli allevatori, tutti quelli che lavorano nella filiera del latte, era necessario e indispensabile portare avanti questo evento. E anche, soprattutto, per la promozione turistica di tutto il mandamento. Con il Bitto noi promuoviamo Morbegno, promuoviamo il mandamento morbegnese, promuoviamo l'intera provincia di Sondria. Sindaco Cavazzi ha detto che questa mostra del Bitto vale come sfida, come messa alla prova anche per un salto di qualità turistico della città e del territorio. Non solo di Morbegno, possa essere rilancio dal punto di vista della valorizzazione paesaggistica, culturale e, sottolineavo, anche turistica, che il nostro mandamento intero, con tutti i comuni che lo compongono, possa essere sempre più messa in risalto e spinta ad essere il meglio possibile conosciuta per le tante risorse, i tanti valori e le tante opportunità che può offrire.